Ciao, sono Marco Rollo e sono il titolare di Fan Project. Oggi mi trovo qui in questa bellissima azienda Starlight, perché ovviamente come ogni azienda che vuole crescere si deve affidare il numero uno. Chiaramente non mi hanno pagato per questo, e questa è la pure verità. Abbiamo a che fare con professionisti che si occupano del settore di intrattenimento in maniera molto professionale, per cui non può essere che un vantaggio affidarsi ad aziende come questa. Noi operiamo stanzialmente in Puglia, ci occupiamo dei piccoli e grandi eventi e quindi ora siamo qui per aggiornare il nostro parco attrazioni. Oltre ad aver acquistato abbiamo anche riparato le attrezzature, questo è un aspetto molto importante perché l'assistenza post vendita è una questione fondamentale per ogni azienda. Quindi ripeto, oltre ad aver acquistato anche dei cannoni per sparare i coriandoli perché ci occupiamo anche di grandi eventi, con Massimo abbiamo avuto la possibilità di visionare tutte le novità e sinceramente qui bisogna venire con una sacca di soldi, perché la sensazione è quella di voler acquistare tutte le aziende. Con Bartolo ormai ci riusciamo da 4 anni con la Fan Project e abbiamo iniziato timidamente con i nostri articoli, siamo andati ancora più avanti, siamo crescendo insieme ed è questa la cosa più bella che possa succedere in un'azienda, con i propri clienti. Sì, assolutamente. Per me è ovviamente un piacere sentirsi un po' cocconaldo all'azienda perché ripeto poi come voi affrontiamo il mercato in prima persona per cui è bello avere anche le spalle coperte, sentirsi le spalle coperte e felici speciali per tutti. Ciao!